Cazzo 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 c No, 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 qua me stanno ammazzati, però Oh cacchio No, 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 no mi uccidere, se non vengo in pace Vabbè però, non c'è più che c'è Chi è questo tipo? Nome e cognome Voglio nome e cognome, sto tipo Ma io ve lo fai amicizia Ciao Mi chiamo Bob Ciao Ciao, ciao Tu vestiti bianco, mi chiamo Bob Finiscimi, ti prego, sto soffrendo Finiscimi, ti prego, finiscimi Ti prego Ma stai a fare un rosario o stai mai a giocare Su Fortnite? Ma te sei vivo? Sì Ma te sei vivo? Non lo so È Deluxe, davvero? No, ti prego Deluxe Ma veramente è rabot? Ah no, ma perché c'è ancora Allora, ma te, ma te, ma te, ma te, segui me Sei pronto? Mettiti per così Ti vede la testa, un po' indietro Ah, mi vede la testa? Eh sì, così, bravo, così, perfetto Immobile, ma non ti muovo, non ti muovo, stai così Sei ancora dentro safe, ce la puoi fare Matteo, ti favo per te Anch'io ti favo per te, ce la li pure per curare, non ce l'hai? Perché quando arriva la safe ti devi curare No, 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 non fa casino, ti scoprono Ci vorrebbero delle bende Hello Hi-ha-ha Dicono che c'hai Deluxe vicino Ma non ti ha visto Sentiamo un attimo, senti i passi Bravo, benedetto, bravo Attento così si vede il piccone, forse, che sbuca dalle scale Bravo, così, così, vai, così ci sta Secondo me è vinta, Matteo Non è vinta, aspetta Vado un attimo a controllare come stai messo, eh Vado un attimo a controllare un attimo Sì, ma mi serve una mano, mi serve qualcosa Sotto c'è qualcosa sotto Ma sto al piano terra oppure sotto c'è qualcuno Eh, non lo conosco per la casa lì Sto guardando Tutti gli altri sono sul tetto, quindi sei sicuro, sei in basso Tu sei sicuro? Dove si sta tranquillo Ma stanno tutti insieme stanno Sono in 26 il team Matteo, ci sono 32 giocatori sul tetto No, non stanno contro di me, sento qualcun altro Sì, non sei da solo, però diciamo che sta quasi tutti sul tetto Sono tutti team man In base, cioè, chi ha le skin uguali sta giocando insieme, lo vedete È bellissimo Troppo bella sta cosa Però devo dire una cosa Che il messaggio generale dell'evento era Tutti insieme contro un male comune Quindi è carina sta cosa che chi ha le skin uguali stia giocando insieme Dai, Matteo, ci credo io Ci credo C'è giusto sottofondo musicale, Matteo Forse c'è una, guarda a destra No, soffiori Matteo, tira fuori le palle, dai Tira fuori ste cazzo di palle, Matteo Vai, Matteo È vinta Sì, 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 c'è ora, ho trovato la prima arma Secondo me ora è buona Ti dovresti mettere lì, lato opposto della città però Perché arrivare a safe ti fa danno Dovresti andare dal lato estremo della città dove... Esatto, là In fondo là Vai con G Edita il muro Così non fai rumore Vabbè, ok Mi fido Ma è solo dentro Pinnacoli, non posso andare via? Eh no, non puoi uscire da Pinnacoli Ma chi l'ha detto? Sono le regole del match Le regole del match Ma quanto va veloce? Va veloce? Ehm... Eccola, guarda Puoi arrivare al limite della città ma non puoi uscire Poi dopo ti città la safe Prova, ci dà, vediamo dove arrivi 18, top, 18 Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai C'è la picciata al culo, vai Vai, vai, fiducioso Sono i cimai tetti loro Se stai al... Bravo, stai al lato così non ti vedono Bravissimo così Vai, vai, vai Tira dritto, tira dritto Limite città, non puoi andare per il limite Devi rimanere quel cassonetto Beh, oh, bravo, di là Bravissimo Bravo Non mi spara, non mi spara Stai dietro Ma vinta adesso con loro Ma vinta che sto con loro Vai, attacco a quell'inghietto Dagli una patta sulla spalla E fai l'integnante Così, Matteo No, Matteo Ma ti vuole bene Quell'inghietto Ma porco di bocca Era sbucci, Matteo Era sbucci, cazzo Ma sbucciato Ma sbucciato Ma sbucciato, cazzo Non ci sto capendo l'uno Matteo Fire No, cazzo Grazie a tutti Grazie a tutti.